Io sono veramente a tanto così dall'andare nei matti perché non ho veramente idea di come non sia stato possibile oggi riuscire a buttarla dentro anche una singola volta e andare a perdere una partita che ha dell'inspiegabile per quello che è successo, per quanto è fatto e soprattutto anche per quanto hanno fatto loro. Io non riesco a capacitarmi, questa squadra ha la bravura di non riuscire a combinare un cazzo e non si sa come mai la va a vincere a culo, a episodi, la va a vincere comunque in tanti modi, non fa un tiro in porta, se la buttano dentro gli altri che problema c'è? Quando fai una partita della Madonna non riesci a buttarla dentro neanche con le mani, neanche per sbaglio la riesci a buttare dentro, sta roba ha dell'incredibile. E se contro il Villareal magari avevi fatto un secondo tempo vergognoso dove si capiva che in culata l'avresti presa proprio davvero nel giro di pochissimo tempo, oggi ha fatto anche un secondo tempo di livello creando con un palo di Zaccaria che è veramente anche nel momento di sfiga quando non ci deve andare, non ci va neanche per sbaglio. Con Vlaovic che solo davanti alla porta se la cicca, qualche occasione di testa che puntualmente non viene mai sfruttata, anche oggi più di dieci angoli probabilmente abbiamo fatto da palla inattiva, neanche per sbaglio riusciamo a combinare qualcosa. Infatti io spero che quantomeno adesso inizino ad allenarsi per il cinismo sottoporta perché tra primo e secondo tempo hai creato una miriade di occasioni senza sfruttare neanche mezza che davvero fa ribresto anche nel primo tempo Chiellini che ha 15 centimetri dalla riga la tira sulla traversa. Io non so veramente che cosa dire, che per essere oggi alla Juventus cosa devi dire? Puoi criticare solamente il fatto che a livello di cinismo sottoporta hai fatto ridere, che comunque è un problema importante considerando sempre che a calcio fino a prova contraria vince chi la butta dentro. Su questo purtroppo c'è poco da fare e così va accettato, non la butti dentro. La cosa che fa davvero poi incassare tanto per cambiare è che davvero l'Inter non ha combinato un cazzo tra primo e secondo tempo. L'occasione gli è la regalità, gli è la regalità in una parte di aria e in una dinamica fondamentalmente dove non erano neanche minimamente pericolosi, neanche da dire no fai il tentativo estremo di salvare il salvabile perché altrimenti sono certi che te la buttano dentro, fai un fallo, metti che. No, neanche erano in una porzione di aria di una inutilità dove Dunfrish non avrebbe combinato assolutamente un cazzo, no. L'episodio glielo devi andare a regalare te. Poi è ovvio, stanno quel quarto d'ora al VAR per decidere, la pari, ribattuta, ti fanno fallo. No, aspetta, facciamo una roba, rifacciamola battere perché non si sa mai. Questa volta il VAR a Torino ha funzionato, ha funzionato assolutamente perché di solito sai, magari non è sempre detto che il VAR con l'Inter a Torino funzioni. Nel loro caso ha funzionato pienamente. Nel secondo, nel secondo con Zaccaria, con Zaccaria non c'era l'immagine giusta per valutare bene se fosse dentro o fuori. Fanno vedere replay, era sulla riga e fino a prova contraria penso che la riga sia calcio di rigore, però no, diamo la punizione dal limite che mai dire mai, mai dire mai. Ecco, in questo caso sì che sono curioso di sapere se poi faranno un servizio su quello che si sono detti anche al VAR, anche nel caso di Lautaro. Dopo 40 secondi un calcio qui in mezzo agli occhi a Locatelli che praticamente nel giro di una ventina di minuti sarà anche costretto ad uscire dal campo. Cartellino giallo ma va benissimo e va bene. Tanto poi i ladri sono sempre gli altri loro purini immacolati, immacolati sia mai loro, poveri. Però non c'è niente da fare a prescindere da tutto. Oltre all'episodio di per sé, questa qui era veramente una partita dove potei buttarne dentro 3-4 con davvero una tranquillità fuori dal comune proprio e invece puntualmente nulla, nulla. Quando la Juventus fa la partita, magari crea anche, puntualmente poi la vai a prendere nel culo. Anche il 4-2-3-1 visto oggi non è stata una brutta roba, è stata una bella Juventus, ma davvero a livello di partita, a livello di prestazione purtroppo c'è ben poco da ricriminare. C'è da ricriminare solamente il fatto che sottoporta ti manca, no, quel qualcosa, quel cinismo ma altrimenti, cazzo, giocassimo veramente sempre così, o magari. Infatti il problema è proprio questo. Quando giochi così, lo prendi nel culo. Quando giochi di merda, bene o male, in un modo o nell'altro la vai a sfangare. E qui sale il dilemma. Come andrai a giocare a partire dalle prossime vedendo quello che è l'andasso? Giochi bene, con il rischio di prendere nel culo? Non lo so, è una domanda anche per cercare di stemperare un attimino il tutto perché indubbiamente l'incazzo è tanto, è tanto perché di big match. Ormai siamo abituati a non vincerli, però magari a vincerli. Penso sia il primo anno dove la Juventus non vinca neanche uno scontro contro le prime quattro, anzi le prime cinque, le prime, sì le prime cinque in classifica perché non hai battuto neanche mai l'Atalanta. Però cazzo, davvero, una roba del genere. Dici, almeno di solito hai da ricriminare un qualcosa a te, no? Sto giro, cioè si fa fatica, si fa fatica perché hai fatto obiettivamente oggi una bella partita, hai creato tanto. Poi certo, se magari vedi che i cambi sono Ken, Bernardeschi, Ken che sbaglia dei controlli che probabilmente li faccio io, gira dei palloni in un modo che probabilmente io posso magari far come lui ma io penso di essere un pochino più legittimato a far come lui. Boh, veramente, il problema è anche questo, no? che dici, chi entra è una martellata nei maroni, entra Zaccaria, va benissimo, oggi ha fatto una bella partita, assolutamente. Il problema è che quando non sei particolarmente incisivo là davanti speri sempre di avere delle alternative valide dietro, in panchina fondamentalmente, che dici, oh, alla brutto Dio, mi gioco quella carta. Te purtroppo ti giochi della merda perché ti giochi o Bernardeschi o ti giochi Kennedy, c'è a posto. Se non l'hanno fatti i titolari adesso, avui veda, che cosa andremo a combinare? Puntualmente, infatti, un cazzo, ma va bene così. L'unica, tra virgolette, nota positiva è che neanche l'Atalanta hanno vinto però allo stesso tempo hanno vinto la Lazio, la Roma, la Fiorentina, che sono squadre che inevitabilmente si stanno iniziando a far sotto quindi sei sempre in quel limbo, sei sempre in quel limbo e una vittoria come quella di oggi, una sconfitta come quella di oggi e dici, porca puttana, ragazzi, porca puttana, oh, quando non ci deve girare, ci gira tutto, quando ti deve girare un minimo che te lo meriteresti anche puntualmente, lo prendi nel culo. Il calcio, purtroppo, è anche questo sport bastardo qui, eh, non c'è veramente nulla da fare e io sono tanto così proprio dall'andare nei matti perché è inspiegabile, è davvero inspiegabile una partita del genere che sono riusciti davvero a vincere la scienza, a fare un cazzo e tanto per cambiare quello che han fatto come in Supercoppa d'altro canto gliel'hai regalato te, una roba veramente questa che, boh, vabbè, è andata così, dai, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve!